Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo di nuovo qua al campo con i bei ragazzuoli Siamo qui a registrare un video estremo Come potete leggere dal titolo e dalla miniatura Ovvero, se sbagli un doll ti dovrai togliere un indumento che indossi Fino ad arrivare in mutande ragazzi E a 100.000 like lo facciamo con delle ragazze Ok ragazzi, quindi mi raccomando 100.000 Mettete like, iscrivetevi al canale Seguite tutti i ragazzuoli qui di fianco a me Tattino tu sei pronto? Io mi impegnerò Vogliamo tattine in mutande Vogliamo tattine in mutande ragazzi Il primo che rimarrà in mutande avrà perso questa sfida E dovrà fare un bel giretto di campo Io già vi immagino che girate perché vado a tutti Ma secondo voi io perdo questa sfida Ma dai Va bene ragazzuoli, allora per decidere chi va in porta Visto che non abbiamo il portiere L'ultimo che è beccato Ragazzi come portieri giriamo Faremo un po' per uno Quindi chi avrà sbagliato E si sarà tolto l'indumento Dopo dovrà anche andare in porta Va bene Facciamo la conta Va bene ragazzi Va bene David Dai E buttiamo le giù 9 Partiamo da lì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Ok Parto io Ok Let's go Ok ragazzi parto io Per primo Spero di riuscire a segnare Perché se no mi tocca già togliermi qualcosa Ti aspetto sempre Mi sei pierre? Sì Lo toglie pierre Lo toglie pierre Scusa questa cosa Maglio lo togli te No sei tu mi dico Carriamo via Top E volevi Partiamo già in salita Io al prossimo Guardo io raga Niente che dire Bellissimo Bellissimo Harry Hai l'imbalazzo della scelta Una bella giornata Harry già Maniche corte ragazzi Magari dal video non renderà Però c'è abbastanza freschino Quel di Milano C'è abbastanza freschino Ho la termica anche sotto Quindi Chi vogliamo Nudo Nudo E invece Segna Incrocio basso Non ho detto quale incrocio E quindi tati si sa Salva Senta che hai pantaloni lunghi Fa la rincorsa così E fa dei granti Abbiamo indovinato l'angolo E anche Gabri ci salva ragazzi Ora sta Il mitico home Dai Leo Come è il finale Oppure sta bene Ragazzi Che tiro Vabbè Stagliamo la maglietta Ma tre hai Maga termica Ma fredda raga La sapete E' il più vestito tra di noi Ok sta Pier ragazzi Pier Così si mette all'incrocio A fil di palo Allora ragazzi C'è un tiro imprendibile Direi Mi sa che Pier Non ha mica tanto voglia Di spogliarsi Non c'era bisogno Di dirlo Che era imprendibile Vediamo DISPAR Ehi Goal 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 Io non farai per ogni gol subito Un vestito tolto Secondo rigore Facciamo gol A questi harry Cioè herry è andato a dirà Ci sta in tutto Ragazzi Come minimo ti togli tutto Devi togliere qualcosa Via la scappa anche per herry Dove tiro? Allora Siccome che herry è basso E anche lui è un incrocio tra un altro Ti avevo suggerito basso incrociare invece l'hai tirata l'effetto. Togli anche tu la maglia L'ansia si fa sentire qua Ed entra due su due. Mi sa che tocca a me. Mi sa che tocca a home. Ricordatevi sempre come se fosse una finale d'Ocupa do Mundo Do Mundo do Brasil prego ora sta Pierino ragazzi lo so che state ti fanno per il mio errore ma non accadrà Non accadrà e così è stato si comincia il giro ragazzi Come lo messa mi pare che mi possa spogliare dai Raga due su due sbagliati mi sono dato le scarpe la maglietta sopra inizia a fare un po freddo Forse è meglio fare go Ma dalle stelle alle spalle alle spalle alle stelle come funziona gabri tolgo questa giacca che fa molto caldo però Va bene La viva parata ragazzi l'aveva intuita e invece niente Dujan Mamma Mamma mia che gol Sapete già dove metterlo sto gol Ok Easy per il boss Ah no dovevo dirlo dopo il mio gol aspettate Della buona Della buona Difficult per il boss e quindi occhio perché questa è la mia ultima maglia signori O mi tolgo il sopra che non ho niente o mi tolgo il sotto Parto col sotto Ah no 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 Andiamo Vamos In sacca Easy per il gabri мн In sacca Ok ragazzi visto che qua siamo tutti i professionisti facciamo gol, non c'è un portiere degno di parare, mettiamo la difficoltà ok? perché proprio quando devo tirare io la difficoltà? adesso di sinistro va bene, mi chiamavano ambidestro mancino magico l'aveva quasi presa oh dove l'ha messa? sta di nuovo col pistolino oh stiamo calzando meglio col mancino che col destro dura, dura vai Sam lo sapevo già ragazzi, non scende neanche dal letto col mancino tanto il quadricipito è uguale sia a destra che a sinistra non ce la fai a mettere all'incrotto la maglia ragazzi oh shit è una cazzo di bestia sai mi chiedo come mai home stia guardando molto spesso in quelle zone fatti vai fatti oh bello la mozzarella li apri ora fuori? e anche li apri via ok ragazzi è il mio turno cioè Sam dopo questo praticamente mollerà il suo biscione spero di arrivare a quella situazione let's go oh no ma buttati via 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 ok oh quasi stavo per fargli tunnel esce quindi mi devo togliere i pantaloni no come ti fai? come ti fai? ah golei golei ok dai eeeh l'ho messa lì e non l'ho sbagliato oh alla Diego Minito alla Diego Minito ragazzi è insaccata di punta e attenzione sono pure fatto un malo al piede ok quindi ragazzi via le scarpe per stati ce ne ne apri oh oh 3 secondi in area 3 secondi in area in varità ragazzi potrebbe andare nudo e no no qualche attento ho una divisa così bella adesso che non me la voglio togliere infatti però secondo me senza sei ancora meglio però poi questa la tagli? no non verrà tagliata perché sei un buffone sei un pagliaccio oh no e adesso che ti togli chiudiamo il video il continuo su Allifans trovate il suo link ci andiamo la panoramica qua oh invasione invasione e intanto entra una fan che vuol veder Sam da giù vicino sta scappando aiuto non lo sto andando a chiamare Carabinieri ragazzi via ragazzi voi che avete guardato bene aveva la conchiglia come il viso ora è tutto naturale eccola in sacca la rabona più brutta che abbia mai visto brutta ma efficace faccio vedere io ogni abbi come si fa va bene va bene te la prendo under the seven la rabona di Pierino nooo cosa ci deve levare adesso no scarpe ah ok quindi rischiamo signori Pier e Samuel sono pari che è l'ora tira tira eeeh ecco ah 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 ok via via uuuu suu magna pri vai magna pri oh magna via pure niente e niente ombra rimane integro ragazzi integro guardare come è possibile ciao ragazzi com'è possibile oh se te lo vuoi fare cioè anche ho un unico indumento attenzio ok siamo ancora vivi ragazzi io sto qui sii attenzione ragazzi è riaperto incredibile Harry ha perso aspetta devi decidere cosa togliere vuoi togliere la maglietta le mutande e i calzini ahahah puoi andare ciao mamma ragazzi ha perso nero di campo seguilo 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 è arrivata è stata chiamata con lui è stata chiamata con lui no no mamma l'uomo nero l'uomo nero mamma l'uomo nero c'è un altro l'uomo nero niente ragazzi contro tutti i pronostici ha perso il nostro carissimo merri patino si è salvato siamo salvati è anche home questo è veloce avevo freddo e anche io bene ragazzi questo video si conclude qua fatemi sapere scusate fatemi sapere se questo contenuto vi è piaciuto se volete altri contenuti con altri ragazzuoli dopo questo video ti scrivo subito che bel biscello è il video ignorante di youtube è il video ignorante di youtube ragazzi io ringrazio veramente di cuore pirla su gabri pierino ringrazio eliz quindi harry lanza om e tatino ragazzi questo video ci conclude qua ci vediamo al prossimo video linea allo stu ciao 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 ciao